Non basta il concetto di deterrenza rispetto alla tutela della salute e della sicurezza nelle strade e nella circolazione stradale, è fondamentale lavorare perché si abbia quel senso e quella consapevolezza che le norme servono soltanto a suggerire, a garantire comportamenti virtuosi al fine di evitare che dopo i fatti qualcuno abbia a pagare le conseguenze e soprattutto gente innocente per la vita, per la imprudenza di altri. Se dovessimo parlare di dati, Palermo come è messa rispetto al resto d'Italia? Guardi, Palermo siamo in realtà nella media delle grandi città dove succedono incidenti, ci sono periodi in cui incidenti più o meno gravi, recentemente abbiamo avuto quattro episodi sicuramente con evento letale, ma al di là delle statistiche, delle fredde statistiche, è importante agire per salvare la vita delle persone. Via Libertà da qualche anno è diventata una via pericolosa, ma cosa bisognerebbe fare di più a questo punto? Via Libertà è un asse pericoloso, ormai ogni cento metri c'è un episodio, un ricordo di qualche infausto incidente o accadimento, non sempre è sufficiente mettere limiti di velocità, anche lì bisogna lavorare sulla convinzione da parte del cittadino che un asse come Libertà, che è molto frequentata da pedoni e da veicoli, è un asse nel quale occorre essere prudenti oltre il limite che si può imporre. L'obiettivo fondamentale di questo ufficio educazione stradale è quello di passare questo messaggio di sicurezza agli adulti e lo facciamo proprio attraverso i ragazzi che incontriamo, attraverso i nostri figli. Per noi loro sono il grillo parlante, così come nella storia di Pinocchio, il grillo parlante è la coscienza, loro sono la nostra coscienza. Io da vittima della strada sopravvissuta e moglie di una vittima della strada deceduta, credo tanto che l'impegno di tutti e quindi sia necessario l'impegno di tutti per una maggiore responsabilità alla guida, perché parliamo di 10 vittime al giorno, è una strage annuale di più di 4.000 persone, distrazione, alcol, droga, alta velocità, sono tutte cause che possono essere debollate con l'aiuto di tutti, con la prevenzione, con la responsabilità di ognuno di noi. Come reagiscono i giovani a questo tipo di incontri? Ormai ci siamo abituati ad un intervento più capillare per quanto riguarda la sicurezza stradale. I giovani reagiscono molto bene. All'inizio c'è un po' di scettifismo, però poi, man mano che il corso va avanti, si rendono conto di quanto è importante rispettare le regole e guidare in sicurezza. Noi cerchiamo da tanti anni di poterlo fare in maniera molto capillare, anche perché la prevenzione è alla base di tutto.